Ciao a tutti amici di AnzoriCondizionati.it, sono Ilaria e oggi parliamo di un capolavoro software, il Motorola Edge. Come si evince già dal nome, il suo display chiamato Endless Edge presenta queste due curvature, che dopo vi faccio vedere nel dettaglio, che contribuiscono quindi ha un design veramente inconfondibile. Per di più questo dispositivo ha 5G che rende appunto un giusto equilibrio tra performance e eleganza del dispositivo. Il Motorola Edge quindi sfruttando al massimo il formato di 21 noni dello schermo si impugna anche con perfezione con una sola mano. I bordi sono arrotondati e conferiscono quindi al telefono un look elegante che non passa inosservato, grazie anche all'assenza delle cornici. Il piccolo foro per la fotocamera anteriore viene posto sulla parte superiore e permette quindi di rendere ben utilizzabile lo schermo con qualsiasi contenuto. Ottime le sue prestazioni in termini di fotocamera con un sensore da 64 megapixel, la più alta risoluzione fotografica della categoria e le ottime le prestazioni della batteria. Scopri la potenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 765, esperimenta i tempi di risposta immediati e la prestazione ultra rapida grazie ad una memoria RAM da 6 GB e uno spazio di archivazione da 128 GB Quindi anche per i più smanettoni, tu che stai guardando, ricordati che non resterai mai senza batteria ma avrai almeno un 30% di batteria sempre perché dispone di 4500 mAh Ci resta quindi che salutarci e vi invito a avvicinare le nostre pagine Facebook ed Instagram come sempre di seguirci e se avete altri suggerimenti scrivetemelo qui nei commenti e seguiteci su www.enjadipondizionati.it Alla prossima, ciao!